A Comiso c'è un altro dissesto. Le brutte notizie per i cittadini comisani non sono finite. Sembra infatti che la nuova amministrazione abbia ricevuto in eredità dalla gestione Alfano altri debiti, oltre ai famosi 25-30 milioni di massa passiva, accertati prima del gennaio 2011. Il vice sindaco e assessore al bilancio Chetano Gaglio ha convocato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa per fare il punto della situazione delle casse comunali che ha trovato al momento del suo insediamento. Un vice sindaco piuttosto preoccupato perché a suo giudizio il bilancio preventivo predisposto non sarebbe assolutamente riequilibrato e poi c'è da capire che cosa sia successo dal primo gennaio 2011 in poi, ovvero in questi ultimi due anni e mezzo nei quali l'ente non si è dotato di un bilancio chiaro e definito. Gaglio parla di un paio di milioni di debiti che si sono accumulati in questo lasso di tempo. Ci sono debiti fuori bilancio e impegni non mantenuti, precisa l'assessore, che vanno dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2013. L'argomento della conferenza stampa di domani sarà solo questo perché a differenza della vecchia amministrazione è necessario fissare un punto di partenza dicendo ai cittadini chiaramente come stanno le cose. Tutto quello che concerne il periodo antecedente al 2011 invece non sarà oggetto di discussione in quanto se ne stanno occupando i commissari liquidatori nominati dalla regione e dunque non ci sarebbe alcun margine di intervento per il neoassessore. Infine domani non mancheranno le sorprese perché si parlerà anche di consulenti e sprechi vari relativi sia agli ultimi due anni e mezzo di amministrazione al Fano sia alla fase predissesto. Pare ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Quando i nodi vengono al pettine? A distanza di un'estate si è finalmente scoperto che i soldi spesi per il progetto di Obevo Sicuro potevano e dovevano essere spesi per altre finalità. L'amministrazione comunale di Ragusa ha infatti annullato tre determini dell'assessore ai servizi sociali di allora Ciccio Barone facendo recuperare all'ente 10.000 euro. Si tratta di soldi regionali destinati ai servizi sociali e soggiosanitari usati invece per pagare concerti e manifestazioni. Si parlava nello specifico di quasi 300.000 euro. Le somme erano inserite nel piano di zona, lo strumento che permette di pianificare sul territorio di un distretto, che comprende diversi comuni, gli interventi e i servizi sociali di cui quel territorio necessita. Ebbene parte dei soldi destinati a queste categorie a Ragusa, ente capofila del distretto 44, erano stati utilizzati invece per finanziare il progetto Obevo Sicuro. Noi di Free TV proprio un anno fa ci siamo occupati della bella e lodevole iniziativa, ma piuttosto salata, pagata con i soldi che dovevano avere un altro scopo, ovvero dovevano essere destinati ai servizi per bambini disabili, anziani e indigenti. Nessuna finalità sociale invece se non quella di utilizzare personaggi famosi per dire ai ragazzi di non bere alcol quando si mettono alla guida dell'auto. Gli spettacoli di Teo Teocoli, Mario Biondi, Gioele Dix, Pintus, Bazzel e Radio 105, per riportare alla memoria qualche nome, sono stati pagati con i soldi per prevenire il disagio giovanile. Adesso questi soldi, recuperati in minima parte, solo 10.000 euro, ci auguriamo possano essere utilizzati per fini più nobili. Da 5 mesi senza stipendio e nessuna certezza per il loro futuro. I dipendenti del Consorzio di ricerca della filiera lattero-casearia di Ragusa e il Corfilac, dopo 6 mesi di attesa degli stipendi che non vengono erogati dalla regione, hanno deciso di indire lo stato di agitazione al fine di arrivare nel più breve tempo possibile alla soluzione del grave problema non solo economico-personale, ma anche di tutta la vicenda Corfilac che rischia di far naufragare una delle strutture più importanti del settore di ricerca lattiero-caseario. Lavoratori e sindacati intendono coinvolgere anche il prefetto di Ragusa, Vardè, perché una rappresentanza possa incontrare la terza commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il presidente Rosario Crogetta con l'assessore Cartabellotta, ma anche la deputazione della provincia di Ragusa per cercare di porre rimedio ad una situazione veramente grave. I dipendenti vogliono vederci chiaro, non solo sull'attuale crisi economica per il pagamento delle mensilità retrate, ma anche sul futuro del consorzio che rischia di mandare a casa una sessantina di ricercatori. Ritorno al premio ragusani nel mondo, l'edizione che precede la celebrazione del ventennale sarà ricca di sorprese. Un'edizione segnata da molte novità, quella di quest'anno, ma sempre nel solco della tradizione che vuole promuovere e portare alla ribalta storie di successo in campo agli blei residenti all'estero. La diciannovesima edizione, in programma sabato 3 agosto in Piazza Libertà a Ragusa, presenta molte novità. Infatti sarà un'edizione che punterà molto sul piccolo e grande schermo con la bella e brava Valeria Solarino. Sicura la presenza anche del regista di Montalbano Alberto Sironi e dei principali attori ragusani impegnati in piatta stabile, da Roberto Nobile a Marcello Perracchio. Grandi firme a fare da corollario e premiati classici che rappresentano l'intera comunità iblea. Dall'ingegnere comisano Gasperi di Caro, luminografo di fama mondiale di Filadelfia, autore di importanti scoperte nel settore della biomedica, al giovane geofisico ragusano Giovanni Occhipinti, classico esempio di fuga dei cervelli all'estero, titolare di una cattedra universitaria a Parigi, dalla mosaicista e pittrice Anna Minardo ragusana da anni trependata a Melbourne, ad un'altra donna Giovanna Biondi vittoriesi, estetista e acconciatrice di livello internazionale. Un momento di glamour verrà dalla presenza dell'avvenente Aylen Maranges, Miss Italy nel mondo, nell'edizione del 2012, altro premio speciale. L'incontro di stamani è per presentare i temi del premio, che peraltro sono stati già abbastanza civiscerati nelle settimane precedenti, ma per fare un po' il punto su un evento che è molto complesso, forse più delle precedenti edizioni, è la degna vigilia della ventesima edizione del premio, una degna anteprima che presenterà ben dieci storie, cinque ordinarie, tre premi speciali, due premi alla carriera, insieme a tanti altri momenti che sono stati tirati fuori dall'attualità e iblea di queste ultime settimane, con in particolare riferimento all'aeroporto di Comiso e di Catania, di cui si parlerà ampiamente la sera del premio, con momenti di altissimo spettacolo, rappresentati dalla grande orchestra di Peppe Arezzo, dalla comicità di Sessa Selvaggio, dal coro Mariele e Ventre, dall'operetta che ci viene portata, le due esponenti della scuola e dell'operetta di Trieste, con la quale abbiamo da tempo in corso un gemellaggio. Scenari apocalittici per il comune di Comiso, all'orizzonte un altro distesto da circa 5 milioni di euro e addirittura è il rischio che il Consiglio Comunale eletto da qualche settimana possa essere sciolto. Il vice sindaco Ghetano Gaglio, questa mattina in conferenza stampa, ha illustrato i possibili scenari a cui l'ente andrà incontro nelle prossime settimane, a causa dei tanti debiti ereditati dalla precedente amministrazione. Ma attenzione, non si tratta del distesto finanziario già accertato, ma di debiti relativi al periodo tra il primo gennaio 2011 e il 30 giugno 2013. In due anni e mezzo, un altro buco che va dai 4 milioni e mezzo di euro ai 6 milioni. L'oscillazione della cifra è dovuta alle reali entrate che il comune di Comiso avrà per quanto riguarda i crediti spettanti nel periodo in questione. Ma andiamo con ordine. Entro il 24 agosto il Consiglio Comunale dovrà approvare i bilanci riequilibrati 2011-2012. Grazie ad una deroga speciale arrivata dal Ministero, sarà possibile accorpare due strumenti finanziari per garantire il pareggio di bilancio tra entrate ed uscite. Ma i conti all'assessore e agli uffici non addornano. E non quadrano perché in queste settimane sono stati tantissimi creditori dell'ente che hanno bussato alla porta per avere ciò che gli spetta. E così l'assessore Gallio ha capito che i soldi altamente in casso, ovvero 1,3 milioni di euro, non possono bastare per garantire la sopravvivenza dell'ente. Lunedì prossimo ci sarà un incontro a Roma al Ministero dove si discuterà delle possibili soluzioni per evitare un'altra dichiarazione di dissesto relativa agli ultimi due anni e mezzo di amministrazione Alfano. Tra le proposte che Gallio metterà sul tavolo c'è quella di poter riequilibrare i conti inserendo anche il 2013, ma non è detto che ciò sia possibile. All'orizzonte c'è l'arrivo di un commissario direttamente dal Ministero che potrebbe aumentare le tasse oltre la soglia massima e sciogliere il Consiglio Comunale appena insediatosi anche se non ha alcuna responsabilità così come l'attuale amministrazione che lavora da appena un mese. Infine, Gallio ha parlato anche dei consulenti del vecchio sindaco. Non è vero che dopo la dichiarazione di dissesto hanno lavorato gratis, ha dichiarato Gallio, ne abbiamo le prove, con le delibere e presto le renderemo note per far conoscere alla città come stanno davvero le cose. Si chiude così il cerchio sui cinque anni dell'amministrazione Alfano. Oltre ai 25 milioni di euro che fondano radici nel passato e nel presente, adesso c'è un altro dissesto additabile a coloro che hanno amministrato negli ultimi due anni e mezzo. Ai cittadini il compito di fare le proprie valutazioni. Lunedì andremo a Roma al Ministero per chiedere la possibilità di riequilibrare nel triennio, quindi utilizzando anche il bilancio 2013. Operazione difficile ma pur sempre possibile, per cui potremmo risolvere in questo modo il problema del riequilibrio stabile di bilancio del Comune di Comiso. A questo si aggiunge una posizione debitoria del Comune che è però preoccupante. Il Comune di Comiso ha ottenuto dal 2011 al 2013 all'incirca 11 milioni di euro di entrate straordinarie per fare fronte a deficit di cassa. Sono stati tutti spesi, noi abbiamo trovato in cassa un milione, quindi all'incirca 10 milioni sono già stati spesi, però risultano dall'analisi delle entrate certe e presumibilmente effettive risultano dei disequilibri per cui la posizione del Comune potrebbe essere in disavanzo di 4-5 milioni di euro. Ora di ansia Vittorio Scoglitti per il peschereccio sequestrato dalle autorità maltesi. L'imbarcazione con a bordo Salvatore, Vincenzo, Claudio e Giovanni Penna, capobarca ed equipaggio del moto peschereccio La Madonnina, tutti parenti tra di loro, è stato sequestrato ieri dalla guardia costiera maltesi a largo della costa, per le autorità militari maltesi nelle loro acque e per i siciliani nelle acque internazionali, è escortato verso il porto dell'isola. Il Consolato di Malta ha fatto sapere che i marinai scoglittiesi saranno processati oggi per direttissima da un tribunale maltese, insieme all'equipaggio di un altro motopeschereccio della flotta di Licata, il Principessa I, formato da 6 uomini, tutti licatesi. Il capo di imputazione è lo stesso per tutti, violazione illegale delle acque territoriali. Per tutta la giornata di ieri sono stati attivati numerosi canali di collaborazione con le autorità italiane e quelle maltesi, è stata allertata anche la Farnesina, la regione con l'assessore Cartabellotta. Sono stati interessati l'ambasciata italiana a Malta e il Consolato Maltese a Palermo, le autorità di polizia e l'Interpol. Ci sono ragionevoli possibilità di un esito positivo di questa vicenda, fa sapere l'assessore Piero Gurrieri, fermo restando che gli accordi bilaterali Italia-Malta dovranno essere presto rivisti in modo da consentire a tutti i nostri e i loro imprenditori del mare di poter esercitare senza pericoli la loro attività. Altro risveglio amaro per la città di Vittoria è un'altra tragica notizia che getta nello sconforto l'intera comunità. Questa mattina Sergio Di Vita ha deciso di farla finita e si è impiccato all'interno della propria abitazione. Nelle prime ore del mattino intorno alle 5.30 i militari della stazione dei Carabinieri di Vittoria, insieme all'equipaggio dell'aliquota al radiomobile, sono intervenuti in via Giovanni Amendola a seguito dell'estremo e disperato gesto. Sergio Di Vita, a 47 anni, era separato e disoccupato. In zona scelta di togliersi la vita sarebbe riconducibile verosimilmente ad una crisi depressiva che lo avrebbe avvolto nell'ultimo periodo, sopraffatto dai problemi familiari e di lavoro. Evidentemente non ce l'ha fatta a sopportare un fardello così grande. La salma dell'uomo su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata restituita ai familiari. Scongiurare un secondo dissesto. La missione è quasi impossibile ma il vice sindaco di Comiso Ghetano Gaglio ci vuole provare e lunedì andrà a Roma al Ministero degli Interni per chiedere un'aderoga speciale con l'obiettivo di spalmare nel triennio 2011-2012-2013 i circa 5 milioni di euro di debiti che la nuova amministrazione ha ereditato negli ultimi due anni e mezzo di governo della città. Nell'ultima lettera il Ministero ha dato un ulteriore ultimatum al comune. Bisogna presentare due bilanci riequilibrati ovvero il 2011 e il 2012 entro e non oltre il 24 agosto. L'amministrazione precedente ha spiegato ieri Gaglio in conferenza stampa, ha consegnato il riequilibrio di bilancio 2011, il Ministero però lo ha ritenuto errato, ha inviato dei rilievi. C'è un disavanzo di quasi 2 milioni di euro da recuperare nel 2013 in soli sei mesi. È un'operazione difficile e c'è bisogno di un'aderoga del Ministero, speriamo di ottenerla. L'Unedi Gaglio come detto volerà a Roma per cercare un'interlocuzione con il Ministero. Se però non arriveranno le deroghe speciali, il Ministero assegnerà ancora 45 giorni, poi sarà nominato commissario ad acta che sceglierà il Consiglio Comunale e che alzerà le tasse anche sopra la soglia massima. Gaglio nella conferenza stampa ha parlato anche dei debiti fuori bilancio e dei termini senza impegno di spesa, di entrate straordinarie che il Comune ha ricevuto e che ha speso, lasciando al momento in cassa solo poco più di un milione di euro. Pesa per l'assessore l'indebitamento del Comune nella fase dopo il dissesto, dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2013. Dall'analisi delle scritture contabili e da una realistica previsione degli incassi a concluso Gaglio, la posizione debitoria del Comune si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro. Questo nonostante il Comune abbia beneficiato anche di anticipazioni straordinarie di cassa per oltre 12 milioni di euro. Una situazione di emergenza assoluta che la nuova amministrazione del sindaco Spataro deve affrontare in maniera seria per evitare che il Comiso diventi la città dei due dissesti. Un'eredità pesante, 86 milioni di debiti. Il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto e l'assessore alle risorse economiche e patrimoniali Stefano Martorana hanno illustrato lo stato economico finanziario dell'ente. Gli amministratori hanno tracciato un quadro della situazione alla luce di quanto emerso dalle prime valutazioni successive al loro insediamento, preannunciando anche l'attuazione entro la fine del mese di agosto di quanto proposto in campagna elettorale, vale a dire un incontro pubblico con i cittadini per avere indicazioni sulle scelte da operare in tema economico-finanziario nel quadro di un bilancio partecipato. Degli 86 milioni di euro di debiti, 41,5 sono permuti i contratti per interventi d'opere più o meno necessarie, la restante parte, ovvero circa 44,5 milioni, sono i debiti con i fornitori da pagare. Un problema strutturale è quello dell'indebitamento, che su un bilancio comunale di circa 91 milioni rende l'indebitamento praticamente pari alla rendicontazione della gestione di un anno. E c'è un grosso problema, che il sindaco e l'assessore hanno annunciato in conferenza stampa. La mancanza di liquidità, insieme anche al minore entroito generalizzato dei tributi locali, dovuto anche alle oggettive difficoltà delle famiglie ad ottemperare nei tempi regolari ai pagamenti. E intanto l'amministrazione comunale sta valutando anche la sentenza della Cassazione, che annulla gli effetti dello sforamento per i comuni, che non hanno rispettato il patto di stabilità. Per cui ci sono già i progetti per l'assunzione di vigili stagionali, per una consulenza per il settore ragioneria, che possa assistere l'aggiunta nei lavori per il bilancio. Da chiarire infine l'ammontare delle entrate che il comune aspetta con ansia, trasferimenti statali e regionali, ma anche i tributi locali. E intanto il dato su cui riflettere sono gli 86 milioni di spese da coprire, figli di una gestione allegra e spenserata della passata amministrazione, guidata dal sindaco Nello Di Pasquale. Gianluca Morando, consigliere del Movimento Civico e Bleo, è il nuovo presidente della prima commissione consigliare al comune di Ragusa, che si è insediata ieri. L'elezione dell'esponente dell'opposizione sembra così sbloccare lo stallo che da settimane ingessava la definizione dell'assetto politico, all'interno di Palazzo dell'Aquila. Decisivo per la sua elezione è stato il voto trasversale. Morando ha ricevuto infatti 9 voti su 16 disponibili. Possibile dunque che abbia ricevuto oltre al suo voto anche quelli del Movimento 5 Stelle di Partecipiamo e di Movimento Città. Il nome del consigliere Morando è stato proposto proprio dal Movimento 5 Stelle tramite il capogruppo Antonio Tringali. Nonostante l'appello dello stesso Morando ad una scelta condivisa, l'esito della votazione evidenzia una netta spaccatura tra maggioranza e opposizione. Solo 9 voti a favore, 7 le schede nulle. Eletto anche il vicepresidente, ovvero Zara Federico, del Movimento 5 Stelle con 8 voti che sono abbastati visto che il consigliere del Partito Democratico, Giorgio Masseri, aveva abbandonato la seduta. Adesso bisognerà capire cosa succederà nelle altre commissioni che si insederanno la prossima settimana, se il Movimento 5 Stelle vorrà eleggere i propri esponenti o continuare nella politica delle concessioni alla minoranza, scegliendo di volta in volta un esponente dell'opposizione. Magari chissà che ha sostenuto segretamente l'elezione del presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Iacono. Giorgio Masseri, Giovanni Iacono.